Diciamo spreco tra virgolette e mezzo secondo per ringraziare l'associazione che mi ha invitato e ringraziare Alberto Pera e tutti quelli che hanno la pazienza di prolungare l'attesa per il franzo. Non potendo sottrarmi all'inesorabile e insostituibile cronometraggio della dottoressa Muscolo spenderei i miei 7-8 minuti che mi sono concessi per fare due brefissime riflessioni. La prima appunto che si rivolge direttamente alla domanda posta dalla chair, cioè i rapporti tra privacy, consumer welfare e concorrenza e poi le ricadute sulle condotte unilaterale. Poi sfruttando anche in parte la discussione che c'è stata nel primo dei panel di questa mattina dove erano molto chiare le distinzioni tra enforcement da un lato e politica della concorrenza dall'altro vorrei fare anche qualche brevissima considerazione su quello che può essere il ruolo della politica pubblica per la concorrenza per risolvere questi problemi dove appunto questioni di consumer welfare privacy si intrecciano maledettamente diciamo e in maniera anche interessante ricitando appunto Alberto Pera e ieri gli interesting times nei quali stiamo vivendo. Alcuni punti da condividere che forse in pillole è utile, anche questo è emerso prima quindi lo posso dire molto velocemente. Allora è chiaramente solo in minima parte il consumatore è consapevole di essere almeno un po' anche produttore. In Paradole si citava Posner, papà con cui ha studiato, Posner figlio insieme a un suo collega ha scritto un libro provocatorio che si chiama Radical Markets dove proprio si rivolge a noi non solo come utenti ma anche come produttori del principale input delle piattaforme digitali. Soprattutto però noi, i consumatori, sono assai poco consapevoli dei propri diritti sia che siano produttori sia che siano consumatori. Mentre è chiaro il valore per le imprese dei dati individuali e della loro elaborazione vediamo che lo è assai meno per il consumatore. C'è anche una limitata consapevolezza del trasferimento dei propri dati, degli scopi per i quali saranno utilizzati e dunque scarsa consapevolezza del valore che è un presupposto affinché poi il mercato possa fare il suo meglio. Se non sappiamo quanto vale salgono i problemi. Quindi vediamo molto schematicamente i rapporti privacy e benessere del consumatore. Stamattina anche nella già citata sessione si ragionava sul ruolo del consumer welfare come obiettivo piuttosto che come standard, piuttosto che superato e parliamo d'altro. Io rimarrei almeno a livello di enforcement, rimarrei abbastanza ancorato a un concetto di consumer welfare virgolette un po' meno tradizionale e io in questo mi faccio scudo. I due punti su cui voglio arrivare in questi otto minuti sono due sollecitazioni. Una che si scuda dietro delle proposte già fatte, un'impostazione da uno decisamente più bravo di me che è Frédéric Geny e l'altra da uno decisamente più bravo di me che è invece il recente premio Nobel del 2018 dell'economia che è Paul Romer. Quindi questi due scudi li uso alla fine se mi sarà consentito. Comunque i rapporti tra privacy e benessere del consumatore, l'ha detto la dottoressa Muscolo, chiaramente non sono univoci perché come consumatore a volte siamo molto contenti di non pagare o di pensare di non pagare con i nostri dati, siamo anche contenti di avere una personalizzazione delle offerte. Tutto questo richiede riduzione di privacy. Quindi insomma c'è una storia dove cediamo i dati, forse non siamo contenti, il paradosso che citava di nuovo la dottoressa Muscolo ci dice che diciamo che non siamo contenti e però incoerentemente siamo abbastanza contenti. C'è un problema serio invece di pluralismo, dove il confirmation bias, la profilazione poi porta anche a degli altri problemi che stiamo sempre ai confini e probabilmente al di là dei confini dell'intervento antitrust. Poi c'è anche da fare due rapidissime considerazioni sui rapporti privacy e fairness, altro argomento di nuovo all'onore delle cronache, che oggettivamente bisogna tenere presente affinché le autorità non vengano poi marginalizzate in un ruolo non solo impopolare ma poi che rischia di essere meno efficace. E lì ci sono i due punti. Da una parte una riduzione della privacy che non è proporzionale allo scopo. Non è agevole nel caso delle piattaforme più versanti e nel caso dei mercati innovativi definire qual è lo scopo. Lo scopo è per innovare meglio. Significa tutto, significa il suo contrario. E però anche andare a trovare il confine, lo si può fare in maniera formalistica ma forse insoddisfacente. Poi c'è un aspetto più distributivo, cioè la condivisione del valore economico non equa. Un profilo appunto tutti arricchisci con i miei dati e dammene a meno un po'. E questo è un argomento che si può affrontare un po' tra Chicago, cioè i dati sono miei, i diritti di proprietà, e un approccio marxista. Attenzione, mi stai sfruttando. Quindi vedete che la confusione è abbastanza ampia. In ogni caso, per quanto il singolo consumatore possa essere disponibile a cedere la sua privacy per migliorare il servizio, per non pagarlo e quindi possa avere degli effetti positivi in termini di consumer welfare individuale, c'è un problema serio. che per quanto i consumer welfare di tutti noi possono alla fine della fiera essere migliorati anche da questa riduzione della privacy, al di là del paradosso già citato, c'è un problema per la società, c'è una riduzione del social welfare. È una storia che può essere evocata, e qui mi appoggio al premio Nobel, un po' come l'inquinamento, cioè produco, sono efficiente, miglioro la qualità dei servizi, ma inquino. Allora, visto che ho un minuto e che quindi tutto quello che si può dire sul rapporto, quindi gli abusi li saltiamo, li diamo per buoni, sono degli abusi che riguardano la profilazione portata all'estremo, anche lì c'è una specificità dell'economia digitale, come sapete, almeno noi economisti consideriamo la discriminazione piuttosto neutra in termini di benessere, il persistere di questa profiliazione in un sistema dove c'è un approccio e un business model che è quello del winner takes all, questo può portare poi a un consolidamento di posizioni di potere di mercato, dove allora anche la discriminazione ha dato il suo contributo negativo. L'altro è una storia di, virgolette, di sfruttamento, dove si può già una fattispecie ai confini tra regolazione e antitrust, quindi molto discussa, molto difficile da applicare, nel caso di specie doppiamente difficile, perché come abbiamo visto gli ingredienti di base per considerare la cessione dei dati una disutilità e quantificarla, quindi considerarla qualcosa di simile a un prezzo, nei cosiddetti mercati senza prezzo, diventa un pochettino complicato e quindi l'applicazione di quest'altro strumento che in astratto rimane possibile, abbiamo visto i tedeschi che quanto sono diventati anche un po' meno tedeschi nel fare il loro slalom tra diritto nazionale, diritto europeo eccetera. Però consentitemi di arrivare alle due questioni, io penso che dato il minuto si possono guardare lo spazio per l'enforcement è uno spazio ancora molto importante, però non per la presenza di Busia qua, ma di altro noi abbiamo bisogno dell'aiuto di politiche pubbliche, virgolette, amiche, nel senso che tutela del consumatore è già citata, la privacy è importante, ma ci possono essere anche, stamattina Michele Aini si sottolineava come il prepotente evolversi del digitale e l'impatto sulle disuguaglianze richiede anche delle politiche di welfare fondamentali senza le quali un antitrust rigoroso e rigoroso è difficile che possa prendere piede, però ci può essere anche una storia appunto riguardando la proposta di Paul Romer, consideriamo la perdita di benessere sociale, coerente con l'incremento del consumer welfare di tutti noi, un'esternalità negativa come l'inquinamento, che si fa sull'inquinamento, almeno per chi ha una cultura diciamo sensibile all'economia del benessere, si tassa. Allora la storia è considerando che i mercati non sono delle cose naturali, ma sono delle costruzioni umane, almeno così amava dire il mio professore Federico Caffè, questo significa ridisegnare i confini del mercato, tassando l'inquinamento inteso in termini di riduzione del benessere sociale e i rischi democratici, extra concorrenziali, che sono i rischi veri, a me se mi profilano per motivi commerciali più di tanto non mi interessa, se mi profilano per sapere come voto, che gusti sessuali ho, religiosi eccetera, può essere un problema, l'uso l'understatement. Io devo garantire il level playing field atto ai miei panelist. Siamo in una società autoritaria, io non vorrei che la cessione dei miei dati può arrivare... Ho utilizzato tre minuti più degli altri. Va bene, accetto il grande fratello e a lei cediamo i dati.